uscire godo giur la scala buona annota godo giur la scala vabbè non ci serve c'è materialista in caso valla maggiore con la tappa la luce oh va bene ahahah ah ah come stai capendo un cazzo di quello che stai dicendo io cosa hai detto che il mio telefono è scarico e poi no ti ho detto donna quando prende il faricobattico alzare il culo e poi il faricobattico dai non torciare il sacco ti ho fatto aprire una cazzo ma me la conto me la conto non 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 che c'è che c'è Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Ok, ok, ok Il jetpack No, no Sì Ho fatto un giro di illa Autore dei sorrisi